Si inasprisce l'avvertenza IGEA, questa mattina un gruppo di lavoratori si è asserragliato in una cabina elettrica di Montepoli. Ancora una volta le maestranze chiedono il pagamento delle mensilità arretrate. Commissioni consigliari d'Europee scuotono il centro-sinistra Sardo, la dirigenza del PD al lavoro questo pomeriggio per individuare un candidato unico all'elezione europea, mentre domani la maggioranza si riunirà per la nomina dei presidenti delle sei commissioni. Spargimi di te, il nuovo libro di Claudio Moica sarà presentato al Salone del Libro di Torino il 10 maggio prossimo, il mondo femminile al centro dell'ultimo lavoro del poeta di San Giovanni Suergio. Sport, calcio, l'Atletico Narcao si aggiudica al derby col Carboni e il Sant'Antioco Corsaro a Quartu riaccende la lotta a salvezza. Nel volley vincono Iglesias e VBA Sant'Antioco. Ben ritrovati su Canale 40, l'avvertenza IGEA, lo avete sentito dai titoli, in primo piano perché un gruppo di lavoratori questa mattina si è asserragliato nella sala quadro del Pozzo 2 di Campo Pisano, funzionale all'impianto di eduzione delle acque per l'approvvigionamento idrico locale. Motivo della protesta? Ancora una volta i ritardi nel pagamento degli stipendi. I lavoratori infatti hanno ricevuto l'ultima mensilità a dicembre e chiedono che vengano erogati gli stipendi arretrati e siano garantite certezze sul futuro. Sul posto è intervenuta anche la polizia del commissariato di Col di Lana di Iglesias per i controlli e gli accertamenti del caso. La società mineraria per precauzione e motivi di sicurezza ha provveduto a disattivare l'energia nella cabina occupata, mentre tra i lavoratori regna l'incertezza sui tempi di pagamento delle aspettanze arretrate. Questa mattina è circolata la notizia secondo cui l'azienda starebbe per incassare una fattura da circa 480 mila euro da destinare al pagamento appunto degli stipendi. Ma i malumori restano, il rischio è che i soldi finiscano nelle mani di società che hanno eseguito lavori in subappalto per conto della stessa Igea S.P.A. Passiamo adesso alla politica regionale. Domani mattina prenderà il via la discussione all'interno del centro-sinistra Sardo per la designazione dei presidenti delle sei commissioni in Consiglio regionale. Intanto questo pomeriggio la dirigenza del Partito Democratico si riunirà per individuare un nome condiviso da proporre alle elezioni europee. Il più gettonato per ora è Renato Soru, ma nessuno dà per scontato che accetti la candidatura. Ce ne parla Fedele Balia. Presidenze delle commissioni consigliari e candidatura unica per le elezioni europee scuotono il centro-sinistra Sardo. Questo pomeriggio la direzione regionale del Partito Democratico avvierà la discussione sulla candidatura per le elezioni europee nella speranza di riuscire ad individuare un nome condiviso capace di convogliare su di sé tutti i voti del partito. Un'impresa non semplice se si considera il poco appeal che ha una potenziale candidatura alle europee per gli aspiranti pretendenti. Anche questa volta infatti la Sardegna difficilmente riuscirà ad eleggere un proprio rappresentante, visto che nei giorni scorsi è sfumata la possibilità di avere un collegio tutto per sé. L'isola figurerà insieme alla regione Sicilia, che con un maggior numero di elettori riesce sempre a spuntarla sui sardi. Ma tant'è, un nome dovrà pur uscire fuori. I rumors mettono in gioco Renato Soru e un'alternativa, qualora il patron di Tiscali non accettasse, quello di Arturo Parisi. Ma la vera questione che anima il PD sono le presidenze delle sei commissioni del Consiglio regionale. Il partito di Silvio Lai ne rivendica almeno quattro e fa la voce grossa per ottenere quelle al bilancio e alle attività produttive. Domani mattina si incontreranno i capigruppo di maggioranza per avviare le trattative con lo sfondo occupato dei malumori delle forze minori per la formazione della giunta di Francesco Pigliaru. Non sarà facile insomma, anche perché al di là delle richieste di Selle, che ambirebbe anch'essa la commissione bilancio proponendo Francesco Agus, all'interno dello stesso Partito Democratico, in molti sgomitano per ottenere le poltrone di presidenza. I nomi più accreditati per ora sono Franco Sabatino al bilancio, Gavino Manca, Antonio Solinas e Luigi Lotto per le altre tre ancora da definire. Sono oltre 17 mila le imprese giovanili registrate in Sardegna nel 2013, incluse le 680 società a capitale ridotto. Sono i dati diffusi da Confartigianato Imprese Sardegna. Il perdurare della crisi anche nella nostra isola, ha commentato il presidente Luca Murgiano, porta sempre più Under 35 a mettersi in proprio. Che si tratti di voglia o necessità, in tantissimi hanno deciso di tentare la carta dell'impresa, soprattutto nel commercio, nell'edilizia, nella ristorazione. Le due facce del fare impresa, quello dell'obbligo perché espulsi dal sistema produttivo o quella dell'essere indipendenti sono state fotografate dall'ufficio studi di Confartigianato che ha rielaborato numeri di Union Camere e Istat 2013. Recentemente l'amministrazione comunale di Carbonia attraverso un'ordinanza ha portato alcune modifiche alla regolamentazione del traffico in via Rox. I nuovi divieti di sosta però pare possano creare qualche disagio ai residenti. Sentiamo perché in questa intervista realizzata da Manolo Mureddu. Fabio Mureddu, portavoce del gruppo di cittadini di via Rox che protestano contro le nuove disposizioni dell'amministrazione comunale. Sì, protestiamo perché l'amministrazione comunale ha deciso di mettere il divieto di parcheggiare sul marciapiede in questo tratto di via Rox. Quando il marciapiede dovrebbe essere, come dice l'amministrazione comunale, solo per il passaggio di pedoni e di disabili. Le condizioni del marciapiede sono veramente pietose, non ci passerebbe mai una carrozzina e poi secondo me non è la soluzione ideale, ci sarebbe una soluzione intermedia che è quella di creare magari delle aree come in via Cagliari anche per il parcheggio degli automezzi. Insomma ci sono anche degli abitanti di via Rox che hanno i furgoni e quindi non potrebbero parcheggiare a bordo strada a causa della ristrettezza della carreggiata. Esatto, ci sono diversi abitanti di via Rox che non accettano questa nuova ordinanza comunale e per vari problemi, come hai detto tu ci sono nella parte alta di via Rox delle persone che hanno dei furgoni e poi c'è anche un altro problema che in via Rox le entrate, gli ingressi per le palazzine sono sfalzati, quindi quando parcheggi sul lato del marciapiede occupi l'ingresso dell'entrata frontale, quindi non ci sarebbero i parcheggi a sufficienza per tutti gli abitanti della via. L'ordinanza partiva dal primo marzo, eppure le macchine sono parcheggiate oggi? Sì, questo penso perché stanno facendo ancora i lavori per lo stop su di via Rox, nella parte alta c'è già il cartello di divieto di parcheggio. Allora, qua dovrebbero salire le carrozzine secondo il comune e il problema mi sembra che non sono le macchine, si può inquadrare in terra e si vede il marciapiede completamente distrutto e poi non ci sono le discesine e le alzatine per far salire la carrozzina sul marciapiede. Questa è la situazione, quindi non penso che il problema siano solo le macchine. Diamo adesso uno sguardo al meteo, da domenica tutta la Sardegna è interessata da forti venti di Burrasca. Sulla base dei dati a disposizione, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato una criticità arancione per rischio idrogeologico. Il servizio. Da domenica tutta la Sardegna è interessata da forti venti di Burrasca. Sulla base dei dati a disposizione, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato una criticità arancione per rischio idrogeologico, emettendo un'alerta meteo che, a partire dal pomeriggio di sabato, ha già portato precipitazioni diffuse sull'isola. Una nuova perturbazione di origine atlantica, infatti, ha portato piogge temporali che nel sulci siglesiente in particolare dovrebbero manifestarsi dalla giornata di domani fino a giovedì, per lasciare spazio a qualche schiarita da venerdì. Anche le temperature hanno subito un forte calo, con minime intorno ai 10 gradi e massime che non superano i 15. Una falsa partenza, insomma, per questa primavera che si fa desiderare, portando con sé strascichi d'inverno. La perturbazione atlantica, tuttavia, dovrebbe lasciare l'isola già dalla settimana prossima per lasciare spazio a un cielo limpido e terzo. Si intitola Spargimi di te, il nuovo libro del poeta Claudio Moica, edito dalla Pettirosso Edizioni, che sarà presentato in anteprima nazionale al Salone del Libro di Torino il 10 maggio prossimo. Per la prima volta una casa editrice del Sulcis sarà presente all'importante fiera dedicata alla letteratura. Il libro nasce dall'esigenza di riportare la figura della donna all'importanza che la appartiene in modo particolare in un momento drammatico come questo, fatto di violenza e aggressività verso il mondo femminile. Vediamo quindi l'intervista realizzata con l'autore. Io ho voluto prendere spunto da altri poeti e dedicare in questo momento tragico tra femminicidi e questi maltrattamenti di donna, di trattare la donna come si è sempre fatto, anche in modo aulico. E di conseguenza ho deciso di pubblicare questo libro che si intitola Spargimi di te, editato da Pettirosso Editore, dedicato completamente alla figura della donna. La cosa che più mi ha toccato, specialmente trattando e leggendo di altri poeti, mi ha toccato questa tematica, anche perché la donna è fondamentale nella nostra vita. Se non ci fosse la donna non ci sarebbe niente. La donna è sinonimo di amore, di bellezza, di tantissime cose che probabilmente in questo contesto storico un po' si è dimenticato. Quando potremmo trovare il libro nelle librerie? È un'uscita, quindi io direi a metà aprile ci siamo, anche perché sarà presente poi al Salone del Libro di Torino insieme alla Pettirosso Editore, ci sarò anche io al Salone del Libro, quindi deve essere pronto sicuramente per i primi di maggio, ma a metà aprile sarà sicuramente in distribuzione in tutte le librerie. Si è svolto sabato scorso il primo laboratorio didattico denominato il pane della nonna che ha portato i partecipanti alla scoperta della vecchia tradizione della lavorazione del pane nel servizio che segue dettagli sull'iniziativa organizzata dall'Associazione Culturale Sant'Isidoro Un viaggio alla scoperta dell'antica tradizione della lavorazione del pane tra grano, semola, lievito tradizionale e tanta, tantissima sapienza popolare. Sabato scorso si è svolto a Corongiu il primo laboratorio denominato il pane della nonna, curato e diretto da Gerardo Piras, tecnico dell'Agenzia Laore, esperto nella filiera del grano duro e nell'analisi sensoriale del pane tipico della Sardegna. L'iniziativa organizzata dall'Associazione Culturale Sant'Isidoro di Barbusi ha visto la partecipazione di circa 40 amanti delle vecchie tradizioni che attraverso il laboratorio didattico hanno potuto realizzare con l'aiuto di personale esperto i pani tradizionali nelle loro forme più caratteristiche, cogliendo la distinzione tra pani comuni e cerimoniali. Dopo la preparazione delle varie tipologie di pane si è passati alla cottura nel forno a legna. Il laboratorio sul pane della nonna sarà oggetto del nostro appuntamento del venerdì, approfondimento giornalistico che andrà in onda dopo ogni edizione del TG40. E come annunciato nel servizio che abbiamo appena visto, il laboratorio sarà al centro del nostro approfondimento giornalistico che andrà in onda venerdì prossimo dopo il TG40. Grandi eventi e sagre religiose nel sulcis iglesiente. La gestione commissariale della ex provincia di Carboni Iglesias comunica a tutti i soggetti interessati che possono presentare la domanda per la concessione dei contributi relativi al 2014 per la gestione dei grandi eventi. Il contributo concesso dall'amministrazione non potrà essere superiore al 75% della spesa complessiva. La modulistica per presentare la domanda è disponibile sul sito internet istituzionale della ex provincia e le domande scadranno il 18 aprile. L'associazione culturale Sischiglia con il patrocinio della società umanitaria presenta domani la conferenza della professoressa Joyce Mattu, antropologa e ricercatrice di Ovodda, che parlerà del tema di Osa, Bundu e Carrasecare, un excursus storico-antropologico che indaga sulle fondamentali pratiche rituali della Sardegna, del Mediterraneo e del mondo. La conferenza avrà luogo come di consueto al Salone Veglio Spano in via della Vittoria a Carbonia con inizio alle diciassette e quindici e ingresso libero. E per finire passiamo allo sport nel campionato di promozione, girone A di calcio, il Sant'Antioco e Spugna, il campo del quarto duemila e si rimette in corsa per la salvezza, mentre l'atletico Narcao si aggiudica il derby con il Carbonia. Ma ci racconta tutto Luca Zanda, sentiamo. Motivazioni più convincenti ed una lettura della gara impeccabile, questa la ricetta giusta che ha portato indotte tre punti pesanti al Narcao che ha spugnato lo Zoboli di Carbonia con un secco 3-0. Augusto Medda schiera un 3-5-2 inedito con De Monti Seppini in avanti e Giancarlo Porcu fulcro della manovra. Il vantaggio bianco-celeste è siglato proprio dall'ex playmaker del Sant'Antioco al 39esimo su punizione dal limite. Nella ripresa accade di tutto, i bianco-blu terminano la gara in nove per via delle espulsioni di San Nemei. Dalla panchina viene allontanato anche carta del Narcao. Il raddoppio dei basso sul Citani è firmato da De Monti, mentre il definitivo 0-3 è effettuato da Angelo Pau. Ora il Carbonia è in stallo a 34 punti in classifica, il Narcao apro da 29. Importante successo esterno anche per il Sant'Antioco che si impone a quarto per 1-2, acciuffando proprio il quarto 2-0 a 25 lunghezze. In prima categoria Musiu, Alessio Meloni, Lod e Cau firmano il 4-0 della Monteponi e i danni del Cuscaglieri. Vittoria per 2-3 in esterna a Gonesa della ferma Senti di Maricca, mentre il Carlo Forte cade a quarto contro la Ferrini, così come il Porto Scuso inciappa in casa 5-0 contro l'Andromeda, pari per 2-2 fra Trattalias ed Scalaplano. In seconda categoria vince sia l'Iglesias di Marras a Villasor per 1-3, sia il Sant'Adi del duo Daga Serpi contro il Teulada con un sonoro 3-0. La VBA Olimpia Sant'Antioco nel volley rifila ai suoi tifosi un bel 3-0 al Palagiacomo Cabras contro l'Arno Pisa. Con lo sport il nostro telegiornale si conclude, vi lascio come di consueto al meteo e vi ricordo che dopo le due edizioni del TG40 andrà in onda l'irriverente, un programma ideato e curato da Manolo Mureddu. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Per domani nel Sulcis sono previsti fenomeni temporaleschi. I venti saranno prevalentemente moderati e soffriranno da nord-ovest con intensità di 27 km orari, possibili raffiche fino a 41 km orari, temperature minime comprese tra i 6 e 12 gradi e massime comprese tra i 9 e 13 gradi.